Ciao ragazzi, benvenuti per questo nuovo video. Io sono Danzina, 07, ho pensato a disarmi una faccosa. Sì, mi devo parlare di una cosa. Grazie per i 40 iscritti, proprio grazie mille. Vi ringrazio, vi lascio a tutti, veramente vi adoro. Proprio vi stimo, proprio vi stimo. Lasciate proprio da parte, ma ad ogni fanno, vado per i fanno. Veste da questa cosa, grazie per i 40 iscritti. Ho pensato di farvi arrivare a un video bellissimo che vi piacerà. Ma un'altra volta, cioè nel prossimo video, vi farò la prima. Poi, oltre a dirvi che volevo essere salutati nel video. E scusate se veramente parlo con chi voleva essere salutato più salutato. Perché avevamo troppe altre cose, cioè dai di da fare, cioè... C'erano dei video quindi non c'entravano i saliti nel niente. Non vi ho più potuto salutare niente. Ma adesso ho perso di salutare chi vi è stato salutato. Prima di tutto, la persona proprio che vuole essere assolutamente salutata da me, dalla cara, da dire, è Lorenzo Vigna. Ti saluto. Che vuole di tanto un saluto da me. Poi saluto Cicci Channel. E anche nell'altro canale, Inavergese. Proprio sei sempre la stessa persona, ma ti saluto. Ti saluto. E poi saluto a mio lavoro, che ti aspetta tanto da me. Infatti ti saluto, ciao. E infatti ti faccio una sorpresa, io faccio il saluto, ciao. Saluto Zara Cavalloni, che è sempre semiliorito. E mi dice che mi semivitalizza il video. E se mi semivitalizza il video, infatti che avranno un saluto da me, quindi ciao. Poi vediamo il saluto, vediamo qualcuno che potete aspettare a me, mi saluto. Saluto è Lorenzo Viglieca, che mi saluta. Cioè, se mi vedete. E saluto pure... Saluto pure altri. Altre persone che hanno, che hanno fatto una spettaccia di città per me. Soprattutto le due napoletane, Giulio e Rafi Ballerina. E la cara, se altri tipi di Polizia. Questo è un'azienda che abbiamo fatto la spettaccia di città. E infatti io le faccio quindi, 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 i commenti. E l'unica che vanno a farlo solo di un po' di prima saggina. E infatti io, la vedo pure loro. Perché sono più o meno, sono tradizionalmente un po' le mie youtuber preferite. Infatti saluto pure loro. Poi, saluto in generale i miei fan. Ciao. Allora, comunque vi faccio una sorpresa. Spero, speriamo proprio che voi salterete dalla giro. Quindi questa sorpresa vi farò. E proprio incrociate le dite e inviatevi praticamente tutti quanti a dire. Cosa è stato fatto da un milione di risultati? Cosa avrà fatto? Che proprio sarà una sorpresa veramente strabiliante. Proprio non ci crederete, però è una bellissima sorpresa. E infatti, proprio, incrociate le dita e scrivete proprio nei commenti, proprio fra voi. Se farò voi nei commenti, proprio sotto. Ecco, tipo, che cosa eviterà e cosa farà e potete scrivere tutto quello che voi volete vedere. Tutte cose belle, potete scrivere. Cosa eviterà e cosa eviterà. Cosa eviterà, mi avrebbero sapere di vedere. Eviterà proprio che vi appetterà che l'altra meravigliosa, perché ci sta facendo. E infatti, farò un video più... Spero di festeggiare. Spero di festeggiare. Alla prossima. Beh, comunque, raga, mi saluto. Un bacio a tutti. Un grazie a tutti. Un saluto a tutti. E... Alla prossima. Ciao. Ciao.